buongiorno popolo rosso nero buongiorno popolo di bandito buon giovedì primo di febbraio quindi entriamo nel mese di febbraio io vi chiedo un like se vi va per far crescere il canale un'iscrizione per arrivare presto a 15.000 la campanella per le notifiche e se volete fare o farmi un regalo la cover del bandito nel link in descrizione 25 per cento di sconto facilissimo da ordinare ieri ieri presentazione da parte del comune di milano del sindaco sala del progetto di ristrutturazione di san siro spesa prevista 300 milioni ho visto le foto ho visto il progetto 300 milioni per imbiancare tutto una bella mano di bianco un quarto anello perché ci avevano detto che già il terzo aveva rovinato il campo perché non arrivava più luce allora giusto farne uno un quarto che poi in realtà viene tolto una parte di primo a quelli che vedono bene per mandarli su al quarto per insomma per essere più avvicini alle stelle e c'è chi ci crede e c'è chi ci crede c'è veramente chi ci crede allora è tutto molto autorenferenziale no cioè se la dicono se la raccontano innanzitutto è un patetico tentativo di prendere tempo di palleggiare di prendere in giro sostanzialmente il milan che vuole andare a fare uno stadio di proprietà per conto suo è un patetico tentativo una patetica presa in giro probabilmente in questo questo progetto serve ad altro serve a dare appunto una bella mano di bianco in quanto hanno voluto a tutti i costi avere le olimpiadi invernali no milano cortina l'ho voluto a tutti i costi essere e non sono ancora riusciti a costruire la pista di bob non sanno neanche dove la costruiranno tra l'altro costruire una pista di bob a parte che è indispensabile per chi organizza le olimpiadi ma costa un una marea di soldi e poi rimane una cattedrale nel deserto perché chi è che va a fare bob chi va a fare bob e quindi sarà l'ennesima ce n'è già una torino abbandonata inutilizzabile una roba indecente e adesso vedremo dove ne piazzeranno un'altra piazzerà una cortina probabilmente no quindi hanno voluto fare a tutti questi questi a tutti i costi queste olimpiadi invernali avranno bisogno di una mano di bianco per lo stadio perché sennò c'è la ceremonia di inaugurazione cosa facciamo presentiamo san siro in condizioni no e allora quale migliore occasione quella di buttare un po di fumo negli occhi alla gente a fargli credere che si tratti della ristrutturazione di san siro come quella del real real madrid il real madrid ha speso più di 900 milioni per ristrutturare il santiago bernabeo più di 900 milioni quasi quello che spenderà il milan per farsi lo stadio nuovo e tra l'altro per ristrutturare il santiago bernabeo il real madrid ha dovuto giocare fuori dove andrebbero le due squadre di milano a giocare mentre fanno questa mega ristrutturazione del 5 per cento dello stadio di san siro vedete se non se non fosse che questi personaggi qua sono quelli che dovrebbero dovrebbero lavorare per noi cioè dovrebbero lavorare per per rendere milano sempre più bella no sempre più e invece milano è andata avanti ma è andata avanti per conto suo e adesso sta subendo un un pericoloso abbassamento della qualità di vita e questi che dovrebbero cercare di migliorare la vita dei propri cittadini in questo caso nel cane nell'ambito sportivo dovrebbero agevolare le società di calcio perché sono delle aziende adesso le società di calcio non si può dire la squadra di milano sono due aziende che una è in pre fallimento vedremo se riuscirà a salvarsi e l'altra sta bene dal punto di vista economico ma per crescere ha bisogno di uno stadio di proprietà come le maggiori squadre europee ma a milano questo non è possibile a milano questo non è possibile per perché perché la politica è questa roba qua è questa roba qua quindi sanno benissimo che questo è solo fumo negli occhi no come si sa già che se il milano riuscirà a partire veramente con mettere la prima pietra per il nuovo stadio san donato e un minuto dopo un minuto dopo un minuto dopo se sarà ancora in carica il sindaco sarà regalerà san siro a sappiamo chi alla sua squadra del cuore no è una cosa già già in progetto già studiata no perché chiunque ha un briciolo di cervello sa che ho un briciolo di discernimento sa che in questo momento quelli là non possono assolutamente neanche pensarlo uno stadio ma neanche pensarlo devono semplicemente pensare a come andare avanti sperando che qualcuno un giorno non busti alla porta chiedendo indietro il miliardo che sta ballando in giro per non si sa dove loro possono solo cercare di andare avanti temporeggiare hanno le coperture sia politiche che mediatiche per farlo lo fanno ma pensare di mettersi a progettare uno stadio è un qualcosa che non è neanche nei loro pensieri perché altrimenti sarebbe stato tutto un altro discorso sarebbe andato avanti il progetto di fare lo stadio in due ma quando giustamente il milan si è reso conto che quegli altri non potevano assolutamente permetterselo anzi non ci pensavano nemmeno allora siamo andati per il cardinale andato per la sua strada cercando ovviamente se cardinale riuscirà a fare lo stadio avrà fatto bingo avrà fatto bingo perché venderà il milan ad una cifra molto molto più alta di quello che ha che l'ha pagato quindi farà un grandissimo investimento perché oltre al valore del milan ci sarà anche il valore dell'immobile dello stadio costruito quindi farà bingo farebbe bingo mentre quegli altri aspettano che tutto si realizzi e poi con i soldi dei cittadini con i soldi dei cittadini a proposito siamo ancora sempre in attesa di sapere dal comune di Milano se ha percepito i soldi dell'affitto è una cosa interessante dovrebbe essere resa pubblica questa cosa qua se stanno percependo i soldi dell'affitto da dalla società in questione quella a cui verrà regalato lo stadio di san siro stadio di san siro che ricordo costruito da un presidente del milan loro giocavano all'arena e lì avrebbero dovuto restare abbiamo avuto troppo abbiamo avuto troppo gli abbiamo dato troppo ospitalità abbiamo voluto essere ospitali abbiamo voluto gli abbiamo concesso di giocare nel nostro stadio e poi alla fine se ne sono appropriati perché loro fanno così un po' come quegli scudetti di cartone no? loro fanno così e quindi alla fine avremo avremo san siro che verrà gli verrà data un po' un'imbiancata una rinfrescata giusto per l'inaugurazione delle olimpiadi invernali e speriamo che noi potremo realizzare il nostro sogno anche se un po' fuori da Milano non importa non è colpa nostra se non siamo più a Milano noi abbiamo fatto di tutto per essere a Milano e la colpa è di un sindaco a braccia pioppi del suo compare di merende Monguzzi insomma di tutto un sistema politico che sa benissimo come dovrà andare a finire questa storia lo sa benissimo regalare lo stadio di San Siro a sappiamo chi non importa non importa noi l'unico obiettivo che dobbiamo avere ed è la cosa che deve essere più importante di tutto il resto più importante addirittura anche di quello che il fatturato che aumenterà più importante del fatto che Milano acquisterà un grosso valore avrà un valore patrimoniale avrà un immobile avrà magari il più bello stadio d'Europa ma più importante di tutto questo c'è che non dovremo più condividere uno stadio con quelli là c'è che non ci sarà più e un San Siro rosso nero vivo bello e un San Siro nero azzurro cupo con quei colori brutti io vi giuro non riesco ad andare a vedere il derby quando giocano in casa loro perché entrare a San Siro che è lo stadio dove gioca la mia squadra e vederlo occupato occupato da quei colori da quelle maglie da quegli striscioni è un qualcosa che è impossibile per me quindi io evito quando giochiamo in trasferta di andare a San Siro ecco tutto questo non ci sarà più lasciamogli anche lo stadio che ha costruito il nostro presidente lasciamoglielo tanto sono messi male sono sono messi malissimo sono messi malissimo magari chissà affronteranno una squadra di serie D a San Siro magari se tutto andrà come come se tutto andrà come potrebbe andare come dovrebbe andare se qualcuno un giorno busserà alla porta della sede aprirà naturalmente occhio di lince perché e Stefanino sarà ancora nascosto in qualche bunker cinese ben nascosto scorgendo se arrivano creditori così messo lì a guardare che non arrivino i creditori e allora aprirà questa porta occhio di lince e qualcuno gli dirà ehi guardami negli occhi c'è un miliardino da da dare indietro un miliardino non bastano le plusvalenze non basta vendere un'ana a Manchester United ci vogliono ci vuole un miliardino che facciamo e allora lì forse scopriremo che fine ha fatto Stefanino se sta bene perché a questo punto anche sulla salute e tutti insieme andranno a festeggiare a San Siro nello stadio costruito da un presidente del Milan che però avrà avuto una bella mano di bianco spacciata come ristrutturazione se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale e naturalmente sempre e comunque forza Milan sempre con il Grazie.